Sarà innanzitutto un aeroporto per attività di aviazione generale a uso di protezione civile, ma anche sanitario, antincendio, turistico, sportivo. Con il bando di affidamento in concessione dell'aeroporto dei parchi di Preturo pubblicato ieri pomeriggio, l'Aquila dice addio una volta per tutte all'idea, forse un po' troppo ambiziosa e avveniristica, dell'ex sindaco Massimo Cialente di realizzare uno scalo aeroportuale, commerciale e turistico. Esce così di scena la contestatissima società calabrese Express, alla quale era andato l'affidamento con lauti guadagni annuali in virtù di una convenzione con il Comune e si aprono le danze per i gestori più piccoli e soprattutto provenienti dal territorio. L'aeroporto del futuro non sarà un aeroporto così come era stato pensato prima, cioè un aeroporto dedicato ai voli commerciali, ma sarà un aeroporto destinato all'aviazione generale, protezione civile, scuola di volo e ci auguriamo che ridiventi un punto di riferimento di eccellenza per tutto il territorio nazionale come lo era prima. Penso per esempio agli Alianti, penso anche alla scuola di volo che era una delle più importanti d'Italia. E poi noi abbiamo previsto anche tra le varie attività l'ipotesi di una scuola di formazione. Intanto qui è previsto un canone ovviamente irrisorio, annuo, ma è previsto anche che chi andrà a gestire l'aeroporto dia al Comune il 10% di tutte le entrate. Mentre prima era stato il Comune che aveva dato i soldi per la gestione dell'aeroporto. Quindi questa è un'operazione, non possiamo dire a costo zero, ma quasi perché il canone è di circa 3.000 euro annui, però noi confidiamo nella gestione e quindi negli introiti nel 10% che sarà dato al Comune. Cosa immagina l'amministrazione? Quindi un aeroporto double face da un lato, protezione civile, quindi un punto di riferimento in caso di emergenza, dall'altro anche un'attrattiva turistica? Sì, questo, protezione civile, l'abbiamo sempre detto. Da tutti i punti di vista, quindi per l'antincendio e per tutto il resto, anche perché l'aeroporto di Preturo durante il sisma del 2009 è stato un punto di riferimento importantissimo per la protezione civile e questo va potenziato. Prenderemo immediatamente anche contatti con la protezione civile nazionale per informarli del fatto che noi stiamo mandando avanti questa attività e questa nuova gestione aeroportuale.